Grazie Presidente. Ricordo che con questo disegno di legge si vuole prorogare l'adozione da parte del Governo dei testi unici in ottemperanza a quella che è la delega di riforma del fisco. Questo perché la delega prevedeva che i codici tributari, quindi i testi unici, dovessero essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega. Giusto per farvi capire cosa è successo, in sede di legge delega i testi unici dovevano essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega. I testi unici la finalità è quella di riorganizzare tutto il sistema tributario anche per categorie omogenee ad esempio di imposte o comunque di temi, quindi il testo unico sull'accertamento, sulla riscossione, sull'IVA, insomma i vari testi unici di cui hanno parlato anche i colleghi che sono stati pubblicati in consultazione nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Quindi riorganizzare, rendere omogenea la materia, ma anche tenere conto di quelle che erano le modifiche da fare in ottemperanza sempre alla legge di riforma fiscale. Quindi i testi unici dovevano riorganizzare, rendere omogenea la materia e accogliere anche i decreti legislativi relativi alla riforma fiscale. Il problema è che la scadenza dei testi unici era antecedente alla scadenza, all'entrata in vigore dei decreti legislativi. Quindi il Governo ha previsto di adottare prima i testi unici dei decreti legislativi che dovevano entrare nei testi unici. Questo per farvi capire il livello anche di precisione, di lungimiranza del Governo. Quindi adesso ci si è resi conto di questa assurdità che in realtà era stata rilevata già in sede di approvazione della delega fiscale e si sta chiedendo con questo disegno di legge una proroga. Il punto è che anche il contenuto dei decreti legislativi in realtà non è proprio il massimo. Io vi faccio solo due esempi che sono quelli anche di più stretta attualità solo perché sono apparsi nei quotidiani in questi giorni e se ne parla più spesso. Uno se ne parla dall'inizio perché dovrebbe essere il fiore all'occhiello della riforma fiscale di questo Governo ed è il concordato preventivo biennale. Un concordato preventivo biennale di cui già si era previsto il probabile fallimento. Questo perché il concordato preventivo biennale che è un accordo tra contribuenti è stato per pagare per due anni la stessa imposta, quindi sullo stesso reddito. In realtà è una misura che era stata già proposta vent'anni fa dall'allora Ministro Tremonti. Fu un flop vent'anni fa perché non era per niente attrattivo, nessuno lo volle adottare. Si sta rivelando un flop e il Governo sta rendendo conto anche adesso. Però su questo flop si è in qualche modo scommesso perché sono state previste delle entrate. Quindi il terrore che si realizzi questo fallimento sta conducendo il Ministero e il Governo a fare tutta una serie di modifiche per cercare di rendere più attraente questa misura. Quindi si è partiti facendo accedere soltanto tutti i contribuenti che adottano i vecchi modelli studi di settore, quindi i nuovi ISA con un punteggio di otto punti. Poi li si è steso a tutti, poi si è deciso di fare uno sconto del 50%. Poi in un gioco a ribasso adesso in Commissione Finanza e Senato si è proposto alla faccia della semplificazione di prevedere una flat tax incrementale per chi aderirà al concordato preventivo biennale. Si è estesa la non punibilità amministrativa penale. Io ho consigliato in Commissione al Vice Ministro Leo di proporre anche una mountain bike per cercare di rendere più attrattivo questa misura, visto che i contribuenti e i loro commercialisti sanno benissimo che nessuno aderirà. Quindi questo è un punto ad esempio presente nei decreti legislativi del Governo. Un altro in un decreto legislativo di dicembre è l'abolizione della mediazione tributaria, quindi quella che precede il ricorso tributario non c'è più. L'effetto, anche questo è apparso sui quotidiani di qualche giorno fa, di questa abrogazione è che il contenzioso tributario nel primo trimestre del 2024 è esploso con un più 38%. Noi dovremmo, in base a quelle che sono le indicazioni per ottenere i soldi del PNRR e ridurre il contenzioso tributario, invece si è fatta l'unica cosa che l'ha fatto aumentare del 38% in un trimestre. Questi sono solo i due elementi più di attualità contenuti nei decreti legislativi e nella riforma fiscale, quindi a questo punto mi sono chiesto per quale motivo si è previsto un termine di adottare prima i testi unici dei decreti legislativi. Forse un enorme lapsus fluidiano, cioè o non ci si aspettava nulla o non ci si aspettava nulla di buono dalla riforma fiscale e quindi magari si è pensato adottiamo subito i testi unici solo per riorganizzare prima che vengono approvati i decreti legislativi. Quindi questa è l'assurdità di questo provvedimento ma soprattutto di quello che è stato fatto in sede di adozione di voto della delega fiscale e noi per questo voteremo contro. Grazie.